Allacce abusivi di acqua ed elettricità ma anche furti di gasolio dai mezzi di una ditta di lavoro, chi in un modo, chi in un altro, per anni hanno fatto i furbi, sottraendo acqua potabile. In tre distinte attività investigative, i carabinieri della stazione di Vibonati hanno denunciato all'autorità giudiziaria tre persone responsabili del reato di furto aggravato. I militari hanno accertato che la prima, una 62enne del posto, per circa due anni aveva rifornito di acqua potabile l'abitazione di sua proprietà a Vibonati, dopo essersi allacciata abusivamente alla condotta idrica della CONSAC. Mentre un 44enne, sempre di Vibonati, all'interno del parcheggio del centro commerciale di Ginestre, in più occasioni aveva prelevato gasolio da alcuni mezzi di una ditta che stava svolgendo lavori. Determinanti sono state le immagini della videosorveglianza. Infine, un trentenne residente a Policastro, Bussentino, frazione del comune di Santa Marina, ha sottratto abusivamente energia elettrica all'Enel. Attraverso un collegamento non autorizzato di un filo alla condotta, i tre sono stati tutti denunciati.